Fatti Italiani incontra Pino Insegno in un contesto nel quale non siamo abituati a vederlo. Si vede Pino Insegno, si ride, siamo invece alla Sapienza nell'ambito di un serissimo corso della Facoltà di Scienza delle Comunicazioni e oggi c'è un incontro su Plurilinguismo e Arte della Mediazione, il valore culturale, filologico e didattico di Racconto di Uomo di Edgar Allan Poe. Pino Insegno. Si, raccontata così è una cosa fra i più difficili del mondo, ma io non sono abituato, qualcuno non è abituato a sentire questa cosa, ma io sono abituato perché ci lavoro spessissimo all'università, in tutte le sue facoltà, proprio perché mi piace stare con i ragazzi, mi piace stare con le persone, cercare di ridare l'esperienza quotidiana e che ho raggiunto all'età di 52 anni, anche con la mia Accademia d'Arte, eccetera, perché ridare in qualche modo l'esperienza, donarla a quelle persone che poi faranno parte del futuro e mi auguro migliore di quello che stiamo vivendo, è una cosa che mi riempie di gioia, non c'è prezzo, per cui appena posso accorro a fare dei piccoli corsi, dei piccoli stage di comunicazione. Quindi non è una situazione sporadica? No, non è sporadica. Questa qui è un po' più particolare perché il titolo che hai detto tu è incredibile. A quel punto dico, ma hanno invitato me con questo titolo? Però è vero, io mi sono avventurato in questo percorso su Edecar a Lampo, traducendo un po' tutte le sue poesie, tutte le sue romanzi che riguardano la possessione, e l'ossessione, l'amore, la follia, per cui è un trattato proprio per tutti i psicoterapeuti e psichiatri del mondo venivano a vedere come ho trattato la follia. E poi è una sorta anche di esorcismo da parte mia di raccontare l'amore come ognuno lo sogna, trasportarlo all'estremo. E' un po' noto ovviamente come comico, noto forse un pochino meno come doppiatore. Sì, adesso cominciano da un po' di anni ad apprezzare altissimo, hanno cominciato ad apprezzare, ad abbracciare questa... Ecco, la voce in qualche maniera è il perno della recitazione. La voce è il perno della vita, secondo me, più che della recitazione, a sua rete della recitazione, sì, è l'organo principale, anche se sono soltanto due piccole corde vocali da 3 mm, e la voce è quella che contraddistingue una persona, sono le intenzioni, quelle che raccontano i motivi di un discorso, quelle che cercheranno di far capire dove si vuole andare, è soltanto con la voce, con le intenzioni giuste. E per questo, come ho detto poco fa anche ai ragazzi, non riesco a capire perché i nostri politici, i nostri manager, non studiano più approfonditamente la voce, l'emissione vocale, non bisogna essere attori soltanto per imparare a usare la voce, ma bisogna essere, visto che ormai si vive in un mondo che comunica globalmente, è fondamentale riuscire a comunicare in un linguaggio universale, perché sia inglese, sia l'italiano, sia lo spagnolo, hanno bisogno comunque di un'importanza fonetica, di un suono che faccia comprendere a tutti che cosa si sta dicendo, di cosa si sta parlando, come io spero che voi stiate capendo quello che io sto dicendo, cercando di dire. Per cui è fondamentale studiare questo apparato, questo organo che parte dal diaframma in basso, basso, e arriva fino alla punta dei capelli. Il modo migliore per parlare, per salvaguardare queste corde vocali che possono rovinarsi in due secondi, il modo migliore per farsi amare, il modo migliore è quello poi ovviamente tradotto dall'attore, perché in scena deve raccontare e far credere alle persone che è un assassino, che è un padre di famiglia, che è un figlio, che è buono, che è cattivo, che è ironico, e allora serve la voce giusta, l'appoggiatura giusta sulla parola giusta. E questo è il doppiaggio del studio. Forse forse non soltanto in funzione di una migliore immagine di noi stessi, ma in funzione anche di una ricerca di noi stessi, nel senso che la giusta impostazione della voce in qualche maniera ci porta in una dimensione più profonda, più porta a galla meglio le nostre emozioni. Sì, perché poi le emozioni noi abbiamo tante sfere emozionali, anche una persona che non fa l'attore dentro di sé ha queste sfere emozionali che sono l'orrore, il pianto, la tristezza, l'amore, la gioia, e quando gli succede naturalmente questa bulla viene a galla e allora quella persona ti accorgi naturalmente che è felice, ti accorgi naturalmente che ha paura, invece l'attore riesce magari in maniera artefatta, con artifici magici, a tirare fuori quelle sfere quando gli servono. Allora per questo si dice, fai l'attore quando ci credo a quello che stai dicendo, eccetera. Però una persona è molto più intelligente, e si accorge della verità di un attore e di un essere umano soprattutto. Pino, tu sei un doppiatore di grande talento e anche di notevole carriere ormai dentro le spalle e speriamo anche davanti. Quali sono le più grandi difficoltà per un doppiatore? Le più grandi difficoltà per un doppiatore è cercare di respirare insieme all'attore che hai di fronte, perché il segreto è intatto di rifare quello che lui ha già fatto, cercando di ridargli la sua forza, la sua intensità, la sua vocalità. Da lì si parte però dalla base di un adattamento, per rifarci anche al discorso anche di oggi, della lingua, che ci sia una traduzione e soprattutto un adattamento già perfetto che possa permettere già al doppiatore di poter pensare soltanto all'interpretazione. La cosa più difficile ovviamente è quella di andare insieme a lui in tutto e per tutto, vivere quell'emozione che sta vivendo in quel momento sullo schermo e tu devi viverla però davanti a un microfono, fermo perché altrimenti fai rumore con la giacca, e dare però quel senso di movimento, di follia, d'amore, in maniera però statica. Per cui pensate la voce, quanto deve essere evocativa, quanto deve essere in movimento nonostante tu stia fermo, quanto tu devi far capire a quelle persone, visto che voi andate al cinema e vi rendete conto, in quel momento credete esattamente che quella persona stia lottando, stia amando, stia combattendo, eppure dall'altra parte c'è un professionista, fermo davanti a un microfono, che dà tutto quel movimento soltanto con la voce. Per cui la difficoltà è questa, dare quella forza che quell'attore, con tanto studio, tanta passione, tanta dedizione, è riuscito a dare. Tu, in quel momento, con film finito, in poco tempo, devi ridare quella verità. Fortunatamente siamo più bravi al mondo, fortunatamente abbiamo i direttori di doppiaggio più bravi del mondo, le assistenti più bravi del mondo, i traduttori e gli adattatori più bravi del mondo, i fonici e quelli che missano, i sincronizzatori più bravi del mondo. Non è soltanto la bravura del doppiatore, ma pensate quante persone intorno si nascondono dietro a un film importante, anche un film meno importante, per ridare quella forza, quell'intensità che la voce deve avere. Per questo, diciamo, abbiamo detto oggi, che la voce è fondamentale. E si può educare una voce, una voce può essere educata, può essere educata nelle intenzioni giuste, può essere educata per essere salva per sempre, per non perderla, soprattutto, a parte quando viene il mal di colla, che anche a noi siamo esseri umani, per cui viene anche quello, però dobbiamo parlare tutto il giorno, nove ore di doppiaggio al giorno, nel teatro la sera, insomma, a un essere umano normale non gli viene concesso una forza tale. Noi dobbiamo reiterarla poi ogni giorno. Per cui pensate, è un muscolo, è un muscolo importante che va allenato, però con grande studio, grande, profondo studio. Pino, un'ultima cosa, tu sei noto in tutto il mondo come sexy symbol, in Italia come attore comico, vorresti in qualche maniera un futuro anche d'attore drammatico? Sì, c'è, perché poi per noi è più facile, oltre ad essere un sexy symbol internazionale, ovvio, qui sono conosciuto solo come attore comico, vorrei essere considerato come un cervello, anche con delle sinapsi, un uomo anche con cui parlare, non soltanto da possedere. Stiamo giocando, ovviamente. Sì, ovviamente il futuro, c'è anche quello, ma non è una proto finale, perché per un attore comico, attore, la drammaticità è più facile, perché per noi che facciamo gli attori comici, devi esagerare la realtà, ma devi conoscerla per esagerarla, per poi far ridere. E allora basterebbe soltanto fare un passo indietro e raccontare la realtà. E allora è quella, essere un attore drammatico, infatti nel doppiaggio, eccetera, è molto più facile per un attore comico questa asciugare, che invece crescere ed esaltare quella drammaticità. Pino, grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.